Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Giulia Blasi? Una scrittrice. Partendo dal titolo di un tuo recente articolo, perché nel 2021 la lotta femminista è ancora una lotta per la sopravvivenza? Allora, nel 2021 siamo ancora al punto in cui dobbiamo letteralmente difendere la nostra integrità fisica, con buona pace di chi ancora urla allo scandalo del Me Too, nel senso che comunque ancora non ci siamo adattati all'idea che le donne possano parlare di molestie sessuali in maniera franca e magari ogni tanto anche chiedere che i loro molestatori vengano in qualche modo assicurati alla giustizia, non giustiziati, assicurati alla giustizia, un'altra cosa. Siamo ancora a livello in cui dobbiamo difendere letteralmente la nostra vita. Adesso non so quali siano le statistiche in questo momento sugli omicidi in ambito domestico, quindi quelli che noi chiamiamo comunemente femminicidi, però c'è stata un'impennata delle aggressioni alle donne in ambito domestico durante la pandemia da Covid-19. Questo ovviamente è il dato più grave, il dato che emerge, anche se ci ostiniamo a considerare ogni episodio di violenza come a sé stante, come commesso da un singolo uomo che prende una singola decisione in un singolo contesto, in realtà si tratta di un fenomeno culturale che è legato a più fattori. Tuttora una donna quando esce la sera al buio, anche se vive in un posto sicuro, anche se è il suo quartiere, anche se lo conosce bene, si fa la domanda ma sarò veramente sicuro, potrò uscire di notte? È veramente sicura questa cosa che sto facendo? Anche se sai razionalmente che lo è, comunque sai anche di doverti guardare le spalle. Quindi siamo ancora a quel livello lì, siamo ancora al livello in cui le donne nello specifico devono rivendicare la loro integrità fisica e le lotte femministe in buona parte si concentrano ancora su quel problema. Ovviamente non puoi affrontare il problema della violenza o delle aggressioni sia da persone che conosci che da eventuali estranei senza affrontare tutto il resto, senza affrontare il fatto che comunque le donne non sono assolutamente centrali alla società e che il discorso che viene fatto sulle donne, che non sono una minoranza, poi si estende ovviamente anche alle minoranze, perché il problema è sempre la dominanza di una specifica parte della società italiana, cioè gli uomini bianchi, eterosessuali, cisgender, preferibilmente borghesi e di mezza età. Questo è l'essere umano letteralmente più privilegiato al mondo e sicuramente è l'essere umano che gestisce il mondo in Italia, che è detta alle regole della società e rispetto al quale si definisce la regola o l'eccezione. Questi temi come vengono raccontati dai mezzi di informazione in Italia? Quali sono gli aspetti più problematici a tuo avviso? Ma tanto per cominciare, le donne sono considerate dai media sempre qualcosa che ha a che vedere con l'eccezione, col problema, con il fenomeno o come funzione estetica o sociale. Quindi fioriscono gli articoli sulle supermamme, fioriscono le menzioni della maternità quando si parla di scienziate, di dirigenti, eccetera, perché la funzione sociale delle donne è prima di tutto la maternità, la riproduzione. Noi viviamo in una società che non consente alle donne di scegliere davvero la maternità. Nel momento del concepimento il corpo ti viene di fatto espropriato, tu devi andare da un medico e uno psicologo, farti firmare delle carte e forse solo allora, previo consenso della società, puoi andare a interrompere quella gravidanza se non è desiderata. E questo senza nemmeno tirare in ballo il fatto che comunque devi riuscire a trovare un posto dove interromperla la gravidanza, visto che comunque il tasso di ginecologi obiettori è al 70% dato nazionale. Quindi i media hanno un problema proprio con la definizione di donna, il problema con l'identificazione della donna, ma non sono i media il problema, è la nostra società che ha un problema con l'identificazione della donna. Cioè non siamo proprio completamente degli esseri umani, siamo quella cosa lì che non è un uomo. Ovviamente possiamo essere quella cosa lì che non è un uomo, ma possiamo, come dicevo prima, essere anche tante altre varianti all'interno del nostro non essere un uomo. Però non essere un uomo è una cosa abbastanza grossa. Quindi riferiscono gli articoli in cui una donna fa delle cose mirabolanti, scoperte scientifiche fantastiche, diventa capo di qualcosa da qualche parte ed è sempre una donna, non è mai una persona con un nome. Nonostante ormai le donne che fanno cose importanti e rilevanti siano sempre, siano tante, quindi comunque non è più una sorpresa, continuiamo a non chiamarle con il loro nome e cognome. Perché una donna è più importante che il nome e il cognome della donna specifica. Quindi c'è una spersonalizzazione costante delle donne. Poi non parliamo quando si parla di violenza domestica o di violenza sessuale, allora lì assolutamente fioriscono i cliché giornalistici che sembrano messi con le macro del computer. schiacci il tastino e esce il dramma della gelosia, schiacci F5 e esce Raptus, professore Ott, cioè c'è una macro per tutte queste cose qua, per usare o eufemismi o definizioni scorrette per nascondere la vera natura della cosa che è successa. Per esempio capita spesso di vedere, che ne so, sesso di gruppo con tredicenne. No ragazzi, non è sesso di gruppo, quello è uno stupro di gruppo. Parliamo. C'è proprio un problema enorme nel riconoscere che le donne sono degli esseri umani e a dare alle donne, all'esperienza femminile, una centralità all'interno della società. Continuiamo a definire l'esperienza femminile come altra rispetto all'esperienza della persona di default, che è maschile. I media hanno enormi problemi, ma i media sono fatti dalle persone. Quindi il problema in realtà è la società, non sono i media. Volendo rimediare al problema della rappresentazione delle donne, basterebbe che le redazioni si dotassero di una, diciamo, delle linee guida condivise, facessero dei corsi regolari alle persone che vanno a lavorare all'interno delle redazioni. In pochissimo tempo la cosa si sarebbe sistemata. Le giornaliste di Giulia, giornaliste, fanno già questi corsi, girano l'Italia tutto l'anno per spiegare come fare una comunicazione non sessista, come parlare di violenza, eccetera, in maniera non sessista. Però è come svuotare il mare con un vitale, perché di fatto è un problema talmente esteso e talmente grosso che è quasi impossibile arginarlo con un paio di seminari. Bisognerebbe che ci fossero veramente delle linee guida sensate e molto forti e soprattutto una forma di sensibilizzazione prima di tutto dei vertici dei giornali, che purtroppo sono quasi sempre molto molto maschili o comunque conservatori, perché non è che le donne poi abbiano in automatico questo tipo di sensibilità. Ti dedichi da alcuni anni all'insegnamento. Come vengono recepiti questi temi dalle persone più giovani? Con molto stupore, devo dire la verità. Poi dipende, dipende dalla classe che ti trovi davanti. Per esempio la classe del master dello IED Milano che seguo, io ne seguo una all'anno, quando parlo con loro di questi temi che rientrano nella disciplina che gli insegno, sono meno stupefatti e meno spiazzati, perché sono un po' più grandi, un po' perché vengono da tutte le parti del mondo, rispetto alle mie classi nell'Accademia di Arte e Nuove Tecnologie di Roma, dove insegno all'interno del corso di Storia dei Media. Gli studenti sono più giovani, sono italiani e sono un po' più colti di sorpresa da alcune cose che vengono illustrate durante il corso. Quando gli fai notare, per esempio, il fatto che la pubblicità spesso è sessista, ma gli spieghi perché, quindi gli fai tutto il processo di ricostruzione dell'immagine della donna, delle minoranze, eccetera, spesso cascano un po' dal pero. La cosa interessante è quando provi a fargli fare l'esercizio di, allora adesso inventati un pitch di campagna e gli metti le mine. Cioè io gli metto le mine, gli faccio fare, che ne so, un pitch di campagna per un prodotto inesistente come, che ha un nome tipo, come la nonna l'avevo chiamato una volta. E gli ho detto fate il pitch di campagna per questo prodotto che non esiste, però non usate la nonna. Ti lascio immaginare quante nonne ho visto poi nel compito finale. Perché non capiscono che in realtà quello che io gli ho spiegato poi è finalizzato all'applicazione pratica all'interno dell'ideazione di una campagna pubblicitaria. Da un lato è divertente, dall'altro mi fa capire che comunque questi concetti non sono sorpresa, però mi fa capire molto bene che questi concetti non sono assolutamente normalizzati. Non dobbiamo pensare che le persone che operano in campo, diciamo nel campo intellettuale o comunque della produzione di pensiero, che spesso danno queste cose per scontate, siano la normalità. Là fuori c'è tutto un mondo che di queste cose non ha mai sentito parlare. Quindi provare a rendere questi concetti accessibili, semplici, senza semplificarli. È un'arte che sto cercando di perfezionare da un po' di anni. Diciamo che spiegarmi è diventata una parte molto importante del mio lavoro. Pensando al ruolo della politica, ci puoi parlare di Vota Femminista? Vota Femminista è un progetto veramente fatto così, un po' casaccio. L'idea ce l'ho avuta un paio di anni fa, durante una visita, ce l'avevo già più o meno, durante una visita al Parlamento Europeo che avevo fatto intorno all'8 marzo del 2019. Avevo pensato di farla come campagna, magari in prossimità di un'elezione, eccetera, per provare a sensibilizzare le persone che mi seguono sui social sul tema di votare secondo dei principi femministi condivisi. Ovviamente bisogna stabilire quale femminismo, perché non tutti i femminismi sono uguali. Diciamo che io parto dalle posizioni del femminismo intersezionale, che sono posizioni molto ampie, perché si occupano di tutte le oppressioni, non soltanto di quella della donna, e tendono a tenere in considerazione tutti i tipi di oppressione quando fanno un discorso. All'inizio avevo pensato come campagna, poi non mi decidevo mai a farla partire. Sai quelle cose che dici adesso lo faccio, adesso lo faccio, poi non lo fai mai. Ti metti lì, raduni della gente, fai un sacco di riunioni, poi non succede mai niente perché ognuno c'ha da fare, insomma, e non riuscivo a tenere insieme la cosa. A un certo punto mi sono detta, vabbè, fatto è meglio che perfetto, e ho cominciato a farla come serie di interviste su Instagram. Faccio queste live con persone che fanno politica attiva o che sono vicine all'ambiente politico, perché poi adesso sto cercando anche di un po' di ampliare la mia definizione di politica. Comunque, che fanno o hanno fatto politica attiva in qualche modo, le scelgo io a mano. Sono partita da quelli che avevo nella rubrica del telefono, né più né meno, cioè gente che conoscevo già. Ho chiamato Giuditta Pini, ho chiamato Filippo Sensi, sono persone con cui avevo già un po' di familiarità e che mi hanno detto di sì subito. E poi pian pianino, adesso stanno cominciando ad arrivare le prime persone che mi vengono segnalate dall'esterno, della serie. Sai, potessi sentire questa persona perché è molto interessante, ha fatto un bel percorso, eccetera. Quindi comunque questa cosa sta cominciando a diventare, non in maniera massiccia, però un po' partecipata anche dall'esterno. Sono tutte interviste molto informali in cui io ho più o meno fisso dei punti che voglio chiedere, che voglio chiarire con la persona che ho davanti, però per il resto si va a ruota libera. Sono proprio delle chiacchierate. L'obiettivo è provare a tracciare una sorta di mappa di chi sono le persone, non solo di chi sono le femministe o, in qualche raro caso, i femministi all'interno della politica italiana, ma anche di che cosa significa votare femminista, quali sono i problemi e le domande che una persona si pone nel momento in cui vuole dare un voto in quel senso, quali possono essere i paletti, le richieste, anche i metodi, perché spesso le persone che vengono da un percorso femminista hanno un metodo specifico per fare le cose all'interno della loro pratica, insomma della loro carriera politica. Per ora tutte le femministe con cui ho parlato durante queste interviste mi hanno detto cose molto simili, cioè che sono entrata in politica perché volevano fare qualcosa, volevano rendere un servizio, avevano degli obiettivi pratici. Questa è una cosa profondamente femminista, perché i femminismi nascono dalle pratiche. Prima la pratica e poi la teoria. Dato un problema si cerca di risolverlo e da quella risoluzione poi si deriva eventualmente una prassi che diventa teoria a sua volta. Però i femminismi partono sempre da un problema che deve essere risolto o da qualcosa che in qualche modo interessa la comunità e che quindi deve essere presa in carico dalla comunità o esaminata dalla comunità. Allora io mi sto divertendo molto a fare questa cosa perché sono molto chiacchierona e quindi comunque se tu mi metti davanti a una persona in cui posso chiacchierare io chiacchiero. Non è un talk show, non è una cosa su cui... non è servizio pubblico, non è la RAI, non è la RAI, scusa, ho avuto un rigurgito di anni 90. Non è la RAI, quindi comunque non sono tenuta alla par condicio. Chiamo la gente che mi sembra interessante in quel momento, la gente da cui voglio farmi raccontare delle cose. Tendenzialmente è tutta gente che si colloca nell'area di sinistra o centro-sinistra. Cioè non mi sembra neanche corretto fare venire da me qualcuno con cui ho in ogni caso un rapporto molto antagonista per questioni ideologiche puoi grigliarlo. Insomma non è un territorio neutro il mio profilo di Instagram, è casa mia. Quando faccio entrare qualcuno in casa mia lo tratto con cortesia. Se devo prenderlo a ceffoni. Magari non lo faccio a casa mia, magari mi trovo un altro ambito. Va anche detto che è molto difficile trovare persone che abbiano un'idea di femminismo un po' più strutturata al di fuori dell'ambito della sinistra o del centro-sinistra. Generalmente tutte le persone che più o meno afferiscono a quel metodo, a quelle pratiche o a quella scelta politica stanno in quell'area lì. Ti sei confrontata anche con degli uomini? Sono arrivati degli spunti interessanti? Gli spunti interessanti arrivano sempre. Nel senso che comunque parlare con le persone spesso ti aiuta anche a chiarire delle cose che non avevi chiare. Comunque quando parli di politica spesso uno degli obiettivi di questa cosa era proprio portare alla luce i meccanismi e i funzionamenti della politica. Perché non è che tu entri in politica e poi ta, schiocchi le dita e i problemi si risolvono per volontà. Perché ci sono delle procedure, è complesso, devi negoziare, devi avere a che fare con gli altri. Insomma non è facile. L'idea che la politica fosse facile, che in realtà quelli che stavano in politica non avessero voglia di farla, è uno dei motivi per cui la nostra politica attualmente è così povera. Perché abbiamo, sono entrati in politica, sicuramente in buona fede, però in maniera un po' sconsiderata, un sacco di persone che non avevano la più pallida idea di cosa comportasse davvero occuparsi della cosa pubblica. Adesso io voglio sperare che questa cosa qua sia un po' rientrata, nel senso che ci siano più persone che hanno capito che no, non si può andare allo sbaraglio in Parlamento e pensare di poi di uscirne profumati. soprattutto se poi ti capita una pandemia fra capo e collo che devi gestire, perché è leggermente un problema. Però, allora, dal confronto con gli uomini generalmente nasce più una situazione di stimolo reciproco, nel senso che spesso sono io a lanciargli delle cose che non si aspettavano, a cui non avevano pensato, su cui non avevano riflettuto. Con i politici è sempre molto difficile prenderli in castagna perché sono quasi tutti molto bravi a svicolare quando gli fai una domanda che magari li mette un po' in difficoltà. Però io non sono, ripeto, non sono lì per fare la grande intervistatrice del secolo, sono lì per fare due chiacchiere su un argomento, quindi me li scelgo bene o male fra le persone che non voglio mettere troppo in difficoltà. C'è stata solo un'eccezione, nel senso che ho invitato Matteo Orfini che non conoscevo, ma solo perché gli portavo tantissimo rancore dai tempi in cui era stato fatto dimettere Ignazio Marino. Quindi ho detto adesso lo faccio venire qua e gli chiedo di raccontarmela. Quindi mi ha fatto venire lì e me l'ha raccontata tutta. Ovviamente dal suo lato, nel senso, ci sono sempre due lati della medaglia. Però è stato interessante da quel punto di vista sentirmi raccontare la versione del PD romano rispetto a quello che era successo con Marino e soprattutto mi sono potuta togliere lo sfizio e dirgli ma adesso no, che comunque il comune di Roma sta andando all'attacco di tutte le case delle donne, insomma la vita per le donne romane non è diventata più facile con una sindaca. Non ti sei mai domandato che cosa ho fatto? Non ho detto che cosa però. Per cui sì, c'è sempre uno scambio molto interessante. Io spero che tutti comunque escano da questa cosa qua con qualcosa, un'idea, uno stimolo, ma anche solo essendosi divertiti un po'. Abbiamo fatto un anno e mezzo di sostanziale sofferenza emotiva e mentale e insomma anche soltanto offrire un'oretta di chiacchiere stimolanti su un argomento mi sembra già qualcosa. Ecco. Hai definito Manuale per ragazze rivoluzionari un libro non per incazzarsi meno ma per incazzarsi meglio. Cosa intendi? Quando io ho fatto Manuale per ragazze rivoluzionarie non c'erano, che io ricordi, molti altri libri, forse non c'erano proprio libri sul femminismo che fossero accessibili in quel modo. C'erano tanti testi femministi ovviamente, anche molto avanzati, anche molto belli, però mancava completamente una cosa che fosse accessibile a livello base. Cioè tu non sai niente di femminismo, entri qui, prendi questo libro e entri da una porta che ti permette poi di accedere alla teoria più completa, più approfondita, eccetera. C'entri in una maniera che è amichevole, che ti prende per mano e ti porta poi verso quella che è una pratica che spesso è faticosa. Però l'ho fatto perché avevo percepito, quando l'ho ideato, tra l'altro era molto prima che facessimo la campagna quella volta che, che era stata l'antesignana di Me Too in Italia, però comunque era già un po' che l'accovavo, ma durante la campagna ho capito che c'era un bisogno estremo per, soprattutto per le donne, di canalizzare una grande rabbia, una grande frustrazione, un grande desiderio di riscatto. La rabbia e la frustrazione, se tu non le governi, diventano incontrollate e incontrollabili. Cioè spesso si trovano dei bersagli che non sono quelli giusti. E l'abbiamo visto moltissimo in questi anni con la tendenza dei partiti populisti a cavalcare proprio questi sentimenti, a cavalcare la rabbia, l'indignazione, la sofferenza, soprattutto la frustrazione e il desiderio di riscatto. Quindi io ho pensato, tutta questa energia non va buttata, tutta questa rabbia non va buttata, va usata meglio, va direzionata bene. Perché un conto è sparare a casaccio e un conto è mirare dritto verso un bersaglio che sai essere quello giusto. Ovviamente poi ognuna si definisce il suo bersaglio, perché io non ti dirò mai, devi fare questo piuttosto che quest'altro. Però se noi non identifichiamo quali sono le origini delle nostre oppressioni, continueremo a prendercela con i bersagli sbagliati. Quindi ci faremo la guerra fra di noi o faremo la guerra ai poveri, troveremo sempre dei bersagli che non sono mai il sistema socio-economico in cui siamo immerse e che si nutre delle disuguaglianze. Quindi tutta questa rabbia, ok, non buttiamola, non sprechiamola, è energia, però giriamo il cannone nella direzione in cui va a centrale il bersaglio. Quindi non incazzarsi meno, ma incazzarsi meglio, nel senso di meglio direzionate, meglio orientate. Ecco, sapere sempre chi è il nemico, chi è l'avversario, chi è non tanto la persona, perché poi alla fine non si tratta tanto di persone, quanto di idee o cose o sistemi che vanno combattuti. Perché il pamflet Odio gli uomini di Pauline Armange potrebbe rappresentare un salutare schiaffo per tanti uomini. Ma a parte che è molto divertente e credo che un uomo che abbia voglia di mettersi in gioco lo dovrebbe leggere. Un po' come quando i bianchi smettono di fare non tutte le persone bianche e cominciano ad ascoltare veramente le persone afrodiscendenti quando gli raccontano di razzismo, oppressione sistemica, cittadinanza negata, diritti negati, mancanza di rappresentazione, micro e macro violenza sistemica. Queste cose succedono e bisogna guardarla in faccia perché un conto è fare pat pat sulla spalla alle persone che le subiscono e un conto è fare i conti con quella che è la nostra complicità più o meno esplicita in questo tipo di oppressione. La stessa cosa vale per Odio gli uomini. Nonostante il titolo molto provocatorio e che serve proprio come cartina di tornasole, nel senso tu lo metti lì e la gente si divide fra quelli che vanno in bestia, così a prescindere, cioè che gli scatta il trigger, e quelli che dicono cosa ci sarà qua dentro? Che sono molto pochi, devo dire la verità. Allora io l'ho trovato ovviamente molto liberatorio perché dà forma a una rabbia molto motivata. Però non è un libro che incita la violenza, come è stato detto, perché non c'è in nessun punto di questo libro un incitamento a fare agli uomini quello che gli uomini hanno fatto le donne per secoli. Non c'è un incitamento a picchiarli, a uscire con una mazza, a punirli per il fatto di essere uomini, a farli stare zitti per il fatto di essere uomini, a bersagliarli costantemente di feedback negativo sul loro aspetto fisico, sul loro peso, sullo spazio che occupano, a levare loro anche la sola rappresentazione del loro genere, pur cui chiamarli direttrici, chiamarli avvocate, chiamarli con nomi femminili per negare il loro valore perché il femminile ha più valore. Non è così, la nostra società non funziona così. Però questo è quello che viene fatto alle donne quotidianamente, in una maniera talmente sistematica che le donne stesse lo trovano normale, cioè accettano di essere in qualche modo cancellate, non nel senso in cui lo intendono le femministe radicali, ma nel senso molto più pratico, cioè che quando sei una donna questa cosa qui spesso non ti viene riconosciuta, ma tu neanche tu te la vuoi far riconoscere perché identifichi nel maschile il prestigio. Pauline Armange prende tutte queste cose e li concentra in un pamphlet molto breve, ma che spiega molto bene perché le donne sono arrabbiate. L'uomo dice questa è la nostra rabbia e le donne dice non dobbiamo dipendere dallo sguardo maschile, non siamo tenute a essere carine, non siamo tenute a essere gentili, possiamo in qualche modo operare una forma di separazione, di indipendentismo dall'opinione degli uomini, dando più valore ai nostri rapporti con le altre donne, all'arte delle donne, all'opinione delle donne, allo spazio delle donne. Quindi riprenderci i nostri spazi senza dipendere costantemente dallo sguardo degli uomini. Questa cosa qua, a parte il fatto che nessuno l'ha letto questo libro, però anche quando leggi questo libro molta gente si fa partire un embolo per i motivi sbagliati, cioè abbiamo talmente tanta paura della rabbia delle donne e talmente tanta paura della loro indipendenza che solo l'idea che qualcuno possa fare un libro con un titolo così provocatorio fregandosene, non solo fregandosene di essere sgradevole, ma anche cercando quella sgradevolezza. Manda tutti i pazzi, manda tutti i pazzi. La nostra società non si nutre soltanto della sottomissione delle donne, ma anche della loro sostanziale collaborazione a questa sottomissione. Le donne devono essere carine, devono essere accoglienti, devono essere premurose, devono prestarsi a essere gregarie e a giocare di squadra mentre gli uomini si prendono la gloria. Se questo viene meno, è un macello. Ovviamente questo molti uomini lo temono, lo temono anche in maniera molto astratta, non ammetterebbero mai di averne paura, però poi te lo dicono, ma perché fai così? Così sei peggio di un uomo, così fai le cose come gli uomini. Ah, davvero. Io credo che un uomo, credo che le persone in generale, non soltanto gli uomini, le persone in generale devono sempre cercare quello che le fa stare un po' scomode. Tutti noi dobbiamo in qualche modo esporci al disagio, al fastidio, alla rabbia e alle esperienze soprattutto raccontate con ogni mezzo e in ogni tono, dalle persone che appunto hanno esperienze diverse dalla nostra e sono tante. Fa molto bene mettersi in discussione, fa bene dirsi, forse qui dovrei cambiare qualcosa, fa bene anche essere un po' disturbati, dire che cosa vuole questa da me, poi tornare sulla cosa e pensare, ma sai che forse c'avevo ragione e dirò io che avevo sbagliato. Questa cosa fa molto bene, ti fa diventare un essere umano migliore. Siccome le donne non sono una minoranza, gli uomini sono una maggioranza, gli uomini sono vastamente privilegiati rispetto alle donne, io credo che non ci sia altro modo per uscire da questa situazione di sostanziale dittatura culturale maschile che non sia una discussione volontaria anche da parte degli uomini dei loro privilegi. Questo libro non è che va in profondità nelle cose, però sicuramente non è un ceffone, un buffetto. Citando il titolo di un libro di Lorenzo Gasparrini, pensi che il femminismo possa servire anche agli uomini? Sì, assolutamente. Il femminismo degli uomini è nella sua infanzia, per così dire, perché prende le mosse da quello che è un corpus di letteratura e di autocoscienza molto consistente, messo sul tavolo e in atto dalle donne per decenni, non voglio dire secoli, diciamo anche solo gli ultimi 50 anni. C'è un sacco di roba, è stata scritta, un sacco di testi che sono stati prodotti, un sacco di lavoro, un sacco di pratiche, un sacco di roba a cui attingere. Una pratica e un'autocoscienza da cui gli uomini sono stati sostanzialmente esclusi per la maggior parte del tempo. Questo è il momento per gli uomini di prendere questo corpus letterario, tutte queste pratiche, tutte queste indicazioni, questa cosa che è stata fatta, messa in piedi dalle donne, e intraprendere un percorso autonomo di autocoscienza basato su questi testi, ma che prende una direzione diversa, perché il femminismo degli uomini non può limitarsi a essere un tifo per le donne, un sostegno per le lotte delle donne. Sicuramente quella parte lì è importante, quindi non sostituirsi alle donne nelle loro lotte, sostenerle ma non sostituirsi, perché le donne sanno quello che devono fare e come devono combattere le loro battaglie. Però dall'altro lato c'è una questione di ridiscussione dei propri privilegi, e non solo, perché se tu dice a un uomo basta devi ridiscutere i tuoi privilegi, lui dice vabbè chi me lo fa fare. Ma dentro la discussione di questi privilegi in realtà c'è anche la riscoperta di una parte più vera, più aperta, più spoglia dalle costrizioni che il patriarcato impone anche agli uomini, che sono delle costrizioni vere, una dissociazione sostanziale dalle emozioni che si opera fin da quando i bambini sono piccoli, non piangere cosa sei una femminuccia, bambini non possono mostrare le emozioni. Gli uomini sono incoraggiati a non mostrare vulnerabilità, a non essere fragili, a non crollare, a mantenere un controllo della razionalità che in realtà è essenzialmente disconoscimento di tutto quello che ti succede a livello di anima. Quindi tu dovresti avere questo pensiero puro, cristallino, che in realtà non lo è perché sotto c'è tutta un'emozione che tu non riconosci e che non sai governare. E le emozioni non governate poi sono pericolosissime a livello sociale. C'è tutto un percorso da fare a livello personale e a livello collettivo che le donne non possono fare al posto degli uomini. E gli uomini devono fare in autonomia senza chiedere alle donne di essere costantemente la stampella di questo lavoro. Perché se no finisce che le donne si devono porre costantemente in posizione pedagogica. Cioè spiegami questa cosa! No! Basta! Ormai ci sono più di libri, cioè io stessa ho scritto due, ti possono piacere o non piacere, però io ho scritto due libri su questa cosa qua. Prendi, ti siedi, li leggi e poi parliamo alla fine. Cioè fare la fatica. Uno dei grandi problemi del rapporto fra uomini e donne, parlando in maniera assolutamente generica, è che spesso gli uomini si aspettano che le donne facciano il lavoro al posto loro. E quindi oltre a tutto il lavoro domestico, oltre a tutto il lavoro di cura, oltre a tutto il carico mentale che già abbiamo, dovremmo pure caricarci il lavoro di fare il femminismo per loro. No! Basta! Basta! È venuto il momento per gli uomini di sedersi e fare un lavoro di riscoperta di se stessi, di riscoperta di cosa significa essere uomini e anche di rinegoziazione di cosa significa essere uomini. Il momento è propizio, il momento è questo, non ce ne sarà uno migliore. Alla fine si sta meglio, si sta molto meglio. Un po' come le donne quando rinegoziano la femminilità, poi stanno meglio perché sono più vicine a se stesse e possono scegliere liberamente che cosa adottare, che cosa lasciare indietro di quella che è la femminilità tradizionale, ma allo stesso modo gli uomini sono liberi di fare questa scelta. Però devono farlo loro, non possiamo farlo noi per loro. Grazie. Grazie a te!